Sì Che è una cruce? Sotto terra c'è stanno cose magnifiche è oridrusco Quindi è prezioso? Non è il valore che trovi è l'immagine che vedi E' bello L'ho sognato Che hai sognato? Che hai sognato? Ho sognato che cercavo i miei mari andavamo lontani senti una gran pena per me e per te e per tutti quanti ma invece il mare diventa un lago come questo aspetta e che l'ho sognato? Grazie a tutti.